Il ritorno del puffo, ritorno a Spectrum. Eh sì, mi sono deciso a sistemarlo con l'elichetta marre, con la sua Foxir, marcato puffo. Dovrebbe anche volare. Ovviamente il sole è unicamente acro, come sempre, però scappa, scappa, torna qua. In garage siamo a 3S, perché abbiamo solo quella di batteria. Direi che è a posto come sempre. Come sempre è tutto a posto. Non ho puffo una garanzia.